Uso di stupefacenti ed abuso di pevande alcoliche tra i minori è stato il tema affrontato questa mattina nell'auditorium Virgilio Argento del plesso Paolo Emiliani Giudici di Gela nell'ambito degli appuntamenti inseriti nel progetto di educazione all'affettività promosso dall'Istituto Comprensivo San Francesco di Gela. Presente è il comandante del reparto territoriale dei Carabinieri, Maggiore Valerio Marra. Durante l'iniziativa di oggi è stato rispettato un minuto di silenzio in ricordo di Ilenia Schembri, 35 anni, scomparsa nelle ore scorse a causa di un tumore. La donna lascia il marito e due figli di 7 e 12 anni. Oggi è per noi un giorno triste e abbiamo voluto ricordare una nostra mamma che ai primi incontri era qui con noi, che è mamma di due nostri alunni, quindi la scuola oggi la ricorda e l'ha ricordata affettuosamente. Ho visto grande partecipazione sia da parte dei genitori, soprattutto con le loro domande e i quesiti che mi hanno posto su due temi importanti, l'uso di sostanze stupefacenti e l'abuso di sostanze alcoliche che interessano in modo particolare i giovani. I genitori sono i primi percettori di queste situazioni di disagio e noi lo cerchiamo di fare attraverso un'azione di prevenzione che quindi rientra anche l'informazione di questa mattina che abbiamo appena ultimato. E anche l'azione di repressione sul territorio attraverso l'uso dei sistemi etilometrici, precursori per il controllo sull'abuso di sostanze alcoliche, quindi la guida in stato di abbrezza, il contrasto alla guida in stato di abbrezza e tutti i sistemi che noi abbiamo anche per l'uso di sostanze stupefacenti e per accertarne il possesso. Naturalmente da qui discendo una serie di conseguenze sul piano giuridico, che sono la segnalazione alla Prefettura per quanto riguarda l'uso di sostanze stupefacenti, e la segnalazione all'autorità giudiziaria per quanto riguarda la guida in stato di abbrezza quando costituisce reato. E poi una serie di conseguenze anche sul piano patrimoniale, quindi il sequestro, abbiamo parlato anche della confisca dei veicoli e dei motoveicoli. E' la possibilità sicuramente che la legislazione ci dà di consentire a questi minori, che dovessero incappare in una serie di reati anche per la guida in stato di abbrezza, di non conseguire la patente di guida se non prima del ventunesimo anno di età per la categoria B. Gli appuntamenti continueranno? Sì, per questo anno 2015 questo è l'ultimo, però nel 2016 abbiamo già un'agenda piena, per esempio vi anticipo che verrà almeno due volte il Vescovo.